Vai Eh vedi di fare selezionare un'altra volta, ho detto Ti assomiglia il tuo personaggio Eh? Ti assomiglia quello che usi tu Parla bene, non si capisce Si assomiglia a me Che cosa usi tu il personaggio dico Assomiglia a chi? A te Ma c'hai mai visto? Vabbè che non sai, ma cazzo Ma per scontata, no? Quindi? E niente Minchia 60 frame, vero? Ah Non è 60 frame, un questione dove c'è troppo letto Dio come corre di me Dio come cazzo corre Vedete l'animazione che scrive, va vero Noi andiamo adesso al sinistro Che poi vediamo Tu vai a sinistra, vado a te Ah beh Trova V Trova V Eh no Eh allora Vieni tu da me Vieni tu da me Ecco Ah perchè vedi Ah no Ah pensavo che devo dirti la spinta invece Eh allora poteva andare anche ognuno per la sua strada Ma corri almeno Tanto alla fine ricongiunge sempre qui secondo me la stessa E' meglio camminare perchè quando vorrei troppo imbarata Ecco adesso Eccomi Tu dovevi farmi salire però eh infatti C'è perchè al contrario cazzo Non ci sta anche io Non ci vuoi salire Tu sei più quello binguscoloso di me E' infatti Sì C'è Southwest Le Adoro C'è Oppure C'è Adoro C'è 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 Loh C C'è C'è Corre Se Il bag of wet potatoes ma dove sei tu? si può battagli ma dove sei tu? ma dove sei tu? ho perso io eh dove cazzo sei? ah ecco di la si ma se vedono il cadavere forse lo chiamano poi eh? eh forse eh forse ecco a me a sapere dove cazzo dobbiamo andare che altro vai 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 di qua non si può fiume ma che che? ma ho le desse? e devo fare il G oh però cerchiamo di passare senza me no problem ma cosa da c'è? non la terra la costa qua lasciamo stare da ferro raiopo è questo che dobbiamo farla in contemporanea del studio di sicuro minchia perché quadrati se non si tratta di un rischio abbiamo aspetta 26 no ma c'è gente di più io e spesso ma ci sono le foglie non ti vedo se ecco grande che ha visto ma come ha fatto vedere? vado dentro eh eh ma tua tetta vieni cazzo vado dentro le foglie se ti mette troppo vicino mi chiede di venire subito, vabbè siamo qua vai 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 a destra e a sinistra sei vai 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 ma parola eh vabbè la cooperativa di un certo è due e non problema sei qui lì che andrì online però intanto comunque oh vabbè 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 Non ho problemi Non puoi salire però Corri 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 Ti vede? Ti vede? Ti vede Ti è bloccato Io mi butto questo Io vado Io vado Non ti fa andare Non è facile questo gioco Tu dovresti crossare quella pietra Non c***o, Sherlock Che? Tu avessi detto Non c***o, Sherlock Non c***o, Sherlock Bene C***o camminano C***o camminano Eccole Forse queste dobbiamo Dobbiamo farle tutte e due C***o E C***o C***o Che C***o I Se E Sì Voi la pistola con la coppia dico io devo andare a vedere e. ecco vedo l'opera la barca posto di sicuro ci scommettano il grosso Yeah man, we got this! Corri almeno! Io vado avanti! Oh, fammi salire tutta a giro! Eh, la più del loro Sparco! Eh, l'hai fatto prima, vero! HC! Ah, questa scena l'avevo vista nel video, forse eh! Ah, quella è nel video! Forse qui che devono sparare! Oh, dammit! Hey! Forse! Let's go that way! We should be able to sneak under the bridge! What? No! It's way too high! Too risky! I say we take that guy out! Take this car! Cross the bridge! What are you crazy? Don't like heights, man, ok? Ha! Passi sotto la ponte! Passi sotto, però! No, facciamo... Stile Vincent, stile Leo... Eh, facciamo... No, aspetta! No, no! Passiamo sopra, cazzo! Ah, ma non si può scegliere i siti uno... Eh, no, forse dobbiamo scegliere te due, no? No, così, è più bello! No, abbiamo la macchina, cazzo! Eh, va bene! Adela scena! Ma che c'è? Faccio fare... Ma, è uno solo, no? Eh, si, è detto... Eh, si, è detto... Come va, è tutta velocità? Io devo nascondere... Eh, non c'è cappello, io! Ah, ok, se nel caso... Nel caso succede qualcosa... No, se nel caso io non nasconde... No, 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 dico, vai tutta velocità e si inquadrato nel caso succede baston. Dovado? Dovado? Non ho problemi! Eh, viene! Di qua, cazzo... Oh, merda! Ma io sto sempre nascosto... Eh, sì, mi ha fatto... Eh, sì, mi ha fatto... Eh, eh! 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 Ecco, adesso devi tenere giù la testa! Ma... Mi vedete, eh? Come fanno vedermi? Eh, che... Oh, oh. Gli, all unaepoca! Ah, merda! Beh, che... È difficile. Ah, non è facile! Cosa ci si sta facendo per evade? Non è scusta. Non mi ragione. Ah, tieneschi. Eht, il risultorebbe veramente ha fatto... Ma non è vero che si è んaglio quella... Ma sarai presa sotto, no? non per te e la fine c'è la facciamo lo stesso eh ma cos'è più bello perchè succedono cose invece è meglio ecco anche se io secondo me oh no Henry dove sei tu? ma siamo divissi eh buono sta mi dico non 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 mi dico goddammit non mi dico i giovani che gridano hurry up i hate dogs i hate fucking dogs i hate dogs i hate dogs ecco di oh ma hanno freddo vabbè non pari occhio eh eh ma vedi che fa parte della cosa eh prendimi almeno cariii eh eh vabbè cos'è facile eh beh ti lasci andare eh non era facile il cuore dovevano fare tipo una cosa che cliccava nel tempo giusto oh shit dammit almost hell eh no io non ho proprio parole eh ok oh hai ah 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 Ehi, ehi, just tell him, this is the deal, you either take it or don't, got it? He says no, it's too much risk, the price must come down. That's not gonna happen, it's not gonna happen. Harvey, I need to talk to you. Wait, you got it? It's important, you need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time, all right? Yeah. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. Sorry boss. Look Sean, you need to find him, okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now, okay? My problem, you just need to find him. You got it? I don't give a fuck how, just make it happen. Yes boss. So you decided? Yes, price down or no deal. Okay, no deal. Oh ah, exactly. Oh, you're going to call me. ní appreciate it, I love you. Uh, there's a cave. They just gaat down or no. Oh yeah Ah, no problem. Yeah, these are, but they don't let us. It's done. But I guess you did have a lot of things, right? Bello però! Sono gli orci qua eh! Eccoci! Io fumo eh! Me too! Bello però! No! Ora cacciamo qualche animale! Provo mangiare questo qua! Lo sai che c'è? Deve sempre mangiare il mio! Eh infatti tu sei un po' più grosso di me! Di poco però! Con la camicia! Dove cazzo vai? Abbiamo una barca cazzo no! Ma dove sei andata tu? Sono di qui eh! Eh no! Bello come grafico appena! Ecco! Mi chiedi hai fatto la storia da più! Eh vabbè! Hai fatto tutto il giro magari! Io vado eh! Bella grafico! Sì è fatto bene comunque! C'è qualcosa qua sopra? Non c'è niente da raccogliere! Non c'è proprio... Non ce ne vai e basta! Che fai? Ti guardi attorno! Non ne avevi visto una... Una foresta! Eh ma! Non ne avevi visto! No ma si bagnatele il pantalone! Io vado eh! C'è tutti i bagni di pantaloni! I pantaloni bagnati! Io no! Eppure ci sono passate dall'acqua! Eccoti! Eccoti! Che fai? Non scendela! Perchè scende? Ah però non puoi scendela! Vaglilo però! Sì vabbè ma guarda! Non ci vuole niente a scavalcare una roba del genere! Comunque! Cioè per forza devono... Non è necessario! You got it? Yee li ho got it! All'unciare... Eh che cazzo! Eh sa... Serete in potregno Campiamoci col fuoco! Eccoti che cazzo! Eccoti know? ok ok e rischiamo un gioco per il gioco a me lo sa cosa è più bello se lo facciamo un tipo senza scheru prende un pesce c'è uno eh te lo dito io io lo pismo come cade la cammina? ma che cazzo fa? dai 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 pesce eeeh ma che prendi? e ti spruzzo eh oh comunque se lo facciamo uno schermo unico e cioè tu ti spruzzo a che ti prendi a me ah non puoi prenderlo ma ti spruzzo 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 infatti ma che cazzo si ma non fa fare solo ma sei sicura che hai detto che dovevo aprire il pesce? non è che l'ha detto però l'escritto li ha prende un pesce ciascuna ah ciascuna e come si fa? non fa a prendere non riusci una fia eh vedi devi fare qualcosa ma non è che puoi fare così bello bello nemmeno 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 altra legna ah poi le cuisciamo di sicuro eh ho capito eh ma ma che fai? e io come faccio a prenderlo scusa ah la posso fare anch'io dai oh eh spena ma no devi buttarmi mi piace di meno ma come? ah dici? ah beh ma ce la fai da solo eh non è che e poi passamela dopo la cosa però vieni dai oh spruzza sto spruzzando ma stanno arrivando eh? eccola vabbè vabbè ma comunque pigliela fatto no? ti ho felice eh adesso io come faccio? e che cazzo al cazzo? e devi prendere ehm no no che me la dai si ma se ce l'hai già pizzato devi no me la devo fare io mi sa no me la devo fare io mi sa just a little more e che cazzo io? ebbè io ci faccio anche da sole eh ci vediamo da giù eh ancora inizia un muro eh lo vedi? vedi come si fa? no no eh no, la faccio messare eh t'aiutato per aiutami no dove c'è s poco di sabbia per al mio aiutami non ce la faccio, non ce la faccio perché non ci arrivo dai ho fatto un primo colpo io eh beh aiutalo eh beh aiutalo dai spruzza no dai eh vabbè ma che cazzo spruzza vanno a controllare dai mi passano davanti la stessa eh che devo fare no però è dove è andato? no spruzza al contrario che cazzo fai? dai mi metti più vicino però eh ma spruzzano ma vengono qua lo stesso eh vabbè ma tu non lo sai parlo guarda che roba ragazzo dai minchia spruzza no ma vedete dobbiamo avvicinare dobbiamo rinchiuderli cioè dobbiamo essere vicini tipo devi stare fermo tu devi stare fermo genio sennò non cammino eh vedi credo? no eh sono stato fermo eh ma sono stati via lo stesso scarso però eh ma io tu eh non li stai spingere gatti ma non mi dico quelli scarso devi stare fermo no soltanto fermo non cambia niente l'ho provato già dai eh vediamo eh dai portali tu da me dai dai vai sbrigaci tutto il giorno ma che cazzo fa ma devi vicinarti di più una c'è normale che eh vabbè no eh vabbè no c'è tempo eh avvicinati allora ho paura di me guarda ecco il no 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 è venuto uno solo forno grazie che mira tu ma no è che tu non lo puoi spingere dai sediamoci va no vabbè ma dobbiamo ancora accendere no vabbè ma questo dopo dobbiamo farlo dai una parola io e poi dobbiamo trovare la legna da mettere e poi dobbiamo accendere il fuoco no come fai cazzo no 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 devi trovare beh ti lo dici devi trovare la legna da qualche parte qua ramoscelli eccoli però mi sa che non posso lo lascia lì vabbè no questa legna eh non ho letta eh forse si non basta ecco ce l'ho fatta però quella è mia eh avevo più io il tuo cuore non è che hai preso i ramoscelli eh lì dove eri tu dove hai lasciato la cosa ah la ramoscelli io vado eh dove vado dai non lo facciamo dove sei ? eh vabbè ma dove cazzo vai eh non capisco eh devi passare per la mhm diga tecca ripisco un vasibo Non c'è affaile. Ah, devo aspettare a te orti. Sì, sai che è quello che è. Sì? Sì? Eh, i miei f***i f***i. Che cosa di te? Eh, sono bene. Quindi sei un ragazzo, no? Beh, non è come abbiamo molto di una scuola qui. Sì. D'altro, per quello che hai fatto? Che cosa che non ho fatto. Quindi sei inocente, no? Sì, non siamo tutti. Sì, sono anche inocente, sai? Sì, sicuramente sei. Che cosa per la famiglia? Hai una cosa? Sì. Una figlia. Ho spero. Sì. 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 E un figlio. Alex. Sì. Sì, senti. Sì. 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 E che sia tua storia con Harvey? Sì. Sì sì, è sicuro. Sì. Può mi che sareb**ta? Sì certo? Sì. Sì oh. Sì. Sì. Siamo arrivati, dobbiamo riuscire. Ah, i miei f***i piedi! Non ti preoccupare, ho capito, ok? Più dirotti tu, eh? Più abituato. Bello però. Ah, la mia storia non l'ha potuta sentire, però quella del... Secondo te già a metà gioco l'abbiamo fatto, secondo te? Pff, non ho a metà precede, poi... So, tu lavorais in una banca, eh? Figures. Cosa ti imponiamo? Beh, come devo dire? Tu sei un po' più forte. Mi piacerebbe essere un po' più forte che un canone. Grazie per il compagno. Tu è venuto. Tu sai cosa? Cosa? Tu sei un po' più forte che lavorava in una banca, con un po' più forte. Tu sei un po' più forte. Tu sei un po' più forte, Leo. Tu sei un po' più forte. 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 Oh! Una stalla però. ok e che spazio è il risultato di perderti la faccia hc mi facciamo piccino parliamo nessuno in quel caso c'è un concorso il club di cuore come non c'è fai un infatti di te solo teo e che è forte nella mia cazzo il tuo è quello più Sì Sei un po' stupido tu però eh? questo giro scegliamo il muore perché è più bello ciò su giugna la coppia se giuggerai la coppia però vede i cavalli per cosa vuoi fare benvenuti più semplici sono anche più bello bella soltanto è la tua idea a me è quella mia tipo tu sei troppo strampagliato ecco è la mia idea fatti tutto bello come grafico però non è che tutto questo io vi però le galli si le galline però lì sopra aspetta però perché vorrei vediamo che c'è le mucche però non è che c'è non è che c'è libero le galline così qua lì non è che c'è non è che c'è non è che c'è con lo mu dai 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 dobbiamo andare alla spinta tipo di tempo e' arrivata da save ma che dici no ma dico pensavo che dobbiamo darci la spinta invece è successo dalla scala è vero è un effetto un po' troppo alto cosa c'è no aspetta sposti che so fai ma ho lasciato che va dove eccoci e ora come li liberiamo io non ce ne è eh ho sentito eh leo questo può fare abbastanza di scuola per scuola per scuola ma dovremmo liberarli ma dovremmo liberare i scuola prima ci sono i scuola non sono sicuro di questo ma li liberiamo liberi del mini no eccola ma uno solo credo che accenna uno solo oh libera qualcuno tutti li devo fagni poi ma devo aprire pure la porta qui eh non tu l'apro io cazzo come si apre solo posso la sfonda no no ma io salgo c'è uno solo cavallo no mi sembra che hai detto altri due o uno non so ma io salgo sopra il cavallo quasi come si muove eh 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 non si muove ma che cazzo fai c'è di la luce cosa serve ma io avevo visto un puntino qua eh ah no non è un puntino sembra un puntino ma oh fai qualcosa ma porca che deve avere che ti godi forse da qui si è aperto no forse qua si è aperto ecco ah era lì dietro era lì dietro ok vai 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 ora mi chiedo se potrei farlo con questo magari è troppo ecco no, questo non funziona hai aperto, apri il minio no no ma si si è già aperto, solo che l'ha richiuso, però è aperto che fai ah ma ce n'era ce n'era un altro dai oh non ho problemi è qua eh eh l'ho già provato cosa sopra che hai trovato prima no penso che in due dobbiamo come aiutami aspetta facciamo il contrario di qua perchè sono di destra vinson ah 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 non l'hai non c'è di qua fa mica il patetico maiale ahahah è per tutto ah comunque c'è uno che si chiama smilzo che gioca a Fortnite che è bravo eh comunque oh sì è bravo hai visto ah anche lo smilzo hai visto anche tu che è lo smilzo io telefono eh il mio smilzo però Pronto? Ma non farti scoprire, che cazzo puoi? Tu non mi senti sei tu? Ma faccio riuscire? Non c'è niente qui? Le galline, pera Più un uovo, cazzo, no? Ma... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma come l'hai fatta prendere? Non si vado a prendere quando l'ho fatto volare così Ancora ancora Ma che cazzo? 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 Ma cosa stai perdendo, però, eh? Ma sono questo, non c'è niente facile No, scusa, non posso scavalcaggio Ma forse deve... Vado a prendere un uovo o qualcosa, no, eh? Si, io vado a mangiare Oh, aspettami che arrivo, no? Mangia sempre Ma tu... Vedi, mangi tutto, cazzo, c'è No, come Sì, cosa fai? Mettere dei piedi di pulire i piatti adesso Non ci credo noi Ma che cazzo... Ma che cazzo? Come si fai ad entrare? Ah, potremmo entrare da qui prima? Comunque, quando facciamo l'altro Non voglio pisciare, non posso pisciare ma cambiati ah dobbiamo con i vestiti eh cazzo fai non gli perde tempo così che parla sono arrivati eh io vado eh chiede la porta ma posso pisciare puoi pisciare? che c'è a dire? che dici? sei tu? puoi il numero no no non si può vedi? eh vabbè c'è un fucile qua eh ma chi è qui? ma non penso che sia carico però quello per collezione o forse si no forse beh ti l'avevo detta io cos'è? io accendo il cammino cazzo io accendo la radio ah la tv ah che c'è la radio ma che c'è io guardo la tv non ho problemi mi ha poi nero si si eh come fai mi c'è il pizzo ti ricordi tu eh ahahahahah non vedete niente però ma siamo accesi o spegniamo? ah spegne ca poi quando arrivano ti diciamo che cazzo accesi sono ma sui dentale sono però però anche le bare Questa è la radio? Vabbè spegne Non sento niente E' un po' di poter C'è questa cosa? E' un po' di poter E' un po' di poter E' un po' di poter Si... E' un po' di poter Ma che cosa c'è da mangiare in lei Oh Eccomi Com'è? Non, sto facendo qua io Come un po' di poter Com'è beh oh ma è difficile eh si estremo ha fatto si estremo l'avevi fatto meglio e già non lo so cazzo aspetta pensavo che faccia da solo non sapeva che devi cliccare me faccio faccio facile non si è un po' che ho riuscito che cosa è ma che cosa che mi ha fatto mi è tu immagini adesso eh oh you're good yeah this sounds good man yeah baby stiamo nel west oh c'è il poker no joker nice didn't know you had it in here what can I say I'm full of surprises mostly good one I can tell yeah everybody can ok now you're a pro metta un trofeo pera insincro ah perchè abbiamo sincronizzato le ma che fai anche tu ciaschi mi l'ho mangiata quella eh che sargo dai vestiamoci sono sopra i vestiti no no che c***o mi sono quello rosso ahahahahahahahahahahahahahahaha ed h were you Ehm... 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 Ma come no? Un specchio non... Un senso non... Ma come lo fa a me? E' questa che cambia la cosa, eh? Hell yeah! I look good! Che là? Ma che ne è questa? Che che... Che che... Che non è che... Che non è che... Che ne metto a cuscire? Io sempre volevo imparare come scegliere Ah, ma non è quello con la... Con il piede, però... Andiamo... Ha ha ha! Guarda bene, man! Ah ha ha! Ehm... 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 Worda... Ehm... Ehm... Quora... Ehm... Oh, nice... Adesso start-e... Ah, so. Esistenti... Ehm... 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 Oh, forse succede qualcosa se ci sdraiamo tutte e due. Vieni, vieni, sdraiamoci tutte e due qua, forse succede qualche cosa fa vedere. Oh, è meglio che ci svegliamo. Vieni, sei seriosi? Se solo i soldi fossi così comforzati... Ma tu non ti... non ti... E' più sfacciato il tonno. Eh... Dio... Cosa fai? Dio... Ma non le sceglie con i vestiti, no? Ma lo sceglie lui, però. Non so che lo riesce a scegliere. Oh, dov'è preso questo fucile? E questo lo farò. E il shotgun mi viene a me. Ho sempre trovato questi... Oh, fucile la pompa! Dai su. Dai, tanto cambia di no. Io ti sparo, però. Ma cosa sei vestito, però? Vieni, tu che c'è fucile la pompa! Ma... Ma... Ma non c'è chi, non è? Quale c'è chi? Ma che sei armi? Non ho problemi. Dove entro? Eh, non mi fa entrare? Eh, no! Marito, però! Che arma c'hai? Non ne hai armi? Hai armi. Una pistola, potete... ...migliartela. E ora che fai? Che naso c'hai, Piero? Non ti potevi uscire, però, eh. Non ti facevo uscire, ragazzi. Vabbè. Andiamo. Anche se... Ora arrivano quelli, secondo me. Ancora, un po' di caffè. Io leggo. E ora? E ora? Vediamo, hanno qualcosa di interessante? Ecco, puoi correre anche dentro, eh. Che dobbiamo fare adesso? Vai al furgo Quale furgona? Io vado Ma dove è il furgona? Dove sei? Mi prendo un po' d'acqua Che non la beve l'acqua? Non c'è le galline Che sei? Oh Bello però Come si fa? Ma come si fa? Ah Ma se ho capito Eh vabbè Niente Niente Eh beh l'avevo detto che ognuno c'ha il suo Dove è che c'è io? Come si fa? Jackpot Da che era buono no? Ma dov'è che sei? E' qui E' lì No ma non capisco come si fa però Però è... E' E' lì 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 C'è il gatto di merda C'è il gatto di merda E' lì Ma io sono ancora 13 eh Ma come 13? Eh non vedi lì il mio punteggio 9 13 Cosa ci faccio con la tane di benzino? Oh Cosa dobbiamo metterla nella mare nel furgone magari? Tanti ci sono i tiri eh No Eh Dai basta non perdere troppo tempo è lì Quattro eh Dovevo cercare la cosa per mettere l'acqua qui il secchio ma non lo... Io vado Ma che dici tiri vedi che non sto aumentando lì Ma devo farmi eh Ma aiutami a capire Ma qui... ma qui dirò un primo... Quattro 5 eh Ehm Ma è ancora 13 sei rimasto 6 eh Ma che centra quelli sono i... No quelli centri sono quelli la sopra di 13 13 siamo pari Che dici? Oh ma dov'è sto furgone? Ah ma questa è la stalla di prima eh E' dall'altra parte va aperta, da dietro Eh allora che cazzo entra a fare? Oh ma... Oh ma... Dove è il furgone? Dove è il furgone? Dove è il furgone? Dove è il furgone? Dove è cazzo è sto furgone? Qua c'è qualcosa... Guardate... C'è qualcosa qua... Forse... Qua c'è un'altra stalla... Ah qua c'erano le ruote eccole eh... Stampe della... Qua deve essere per forza... Minch era legna Deve essere qui dentro eh... Oh mi devi aiutare eh... Servi legna eh... Per fare chi? Ma che... Gliela fai per quelli... Per i vecchi... Dai dai aiutami... Ehi eh... 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 部分... Quindi... Ehi eh... Ehi eh... Hey Vincent... via qua qua ho 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 bisogno di una elementa da chi. oh my god it's a piece of junk it's not that bad it's too rumore che shanito hey it's even missing wheel i'm sure there's a spare around here somewhere i don't know man it's not like we have a choice sherby's running on foot let's fix it up and we'll be out of here no time all right fine la benzina ce l'ho eh senza ruote ah che be si tutto c'è la connessione lenta eh vedi che è rosso sembra che sia da gas eh beh la benzina ce l'ho ma serve il tubo serve per metterla come faccio e metterla così io non se la fa mettere lo stesso se non ti sei a morda ah ecco lo fa a fare lo stesso dai dati da fare no tutto io devo fare ogni volta io vado cazzo dai niente non che fai ti da ruota dai eh ma devi trovare cazzo dov'è dai almeno l'intenzione dov'è dai ma come fai ti devi andare addosso come faccio eh mi dovevo trovare sto pagando addosso dai ma è una sola che manca la ruota no ma devo trovare la ruota prima che cazzo mi eh perché lo lo butto così però non puoi un po' già muoviti muoviti che cosa aspeh lascia l'uomo ma stante di muoviti il suo il l'uomo ecco ecco la rota lo fosse l'ho visto dall'altra parte non fanno famiglia da l'altra parte fosse il bottone qui dai almeno io ti spingo dai dai devo fare tempo tutto io ogni volta come al solito è una ruota ah si sono i corpertoni eccola la vedo l'ho detta io no che fai come faccio a ritornare forse la butta da qua trovo la butta basta questi rumori che non ti mi oggi è giusto telefono porto no sono io mi c'è un'epoca cazzo ma c'è scena perché lecce ecco faccio possa ma ma cosa posso scelta anche posso scelta dai mette sta cazzo di ruota la chiave prima si mette dopo non ma sbaglio però si può sbagliare se non è difficile la batteria mi chiudi no aspetta la ruota prima batteria che cazzo ma c'è manca una sola come detto che era senza ruota una sola non dai almeno non c'è bisogno che lo alzi qualcuno la devi evitare adesso però ok ma perchè c'è che fai metti la ruota no perchè ah ma non c'è bisogno comunque che lo alzi non so non lo so forse quando dobbiamo puoi scenderla vedi vai solleva allora no che fai ancora la batteria dobbiamo metterci eh vabbè la spingiamo lo stesso no? vabbè dai spingiamola no? intanto usciamola intanto vabbè vabbè io ti faccio io ti faccio spingere a te lui infatti non sto permendo niente wow 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 che c'èstat ? hai lasciato ? io li lasciato hai lasciato ? non io niente ah usciamo lo ori andiamo a prenderla perchè non vorremmo avere le l'anima corri almeno no E' questa caccia, potrebbero raffreddere la batteria, bisogna ottenere l'acqua. E' accettata, provatecici il carnetto. Non l'avevo visto, l'ho fatto mai potenziale. Dai, guida tu dai. Guida tu. Guida tu, io c'è il fuscita, devo sparare io te. Ma... Forse ti fa guidare a te, infatti mi sa. Ma... No, non lo so, era un tempo fa. We need your help now, officer. Ok, hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Ok, I'll go take care of them. No, just stay here. It's alright, just wait here. I'll be fine. Filthy scum. Oh shit, take cover. You're gonna pay for this. Come on, let's go. You've got it. Come on. Come on. Go, 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 go. Sparo. Siiii, cazzo vedi ok? Siiii, cazzo vedi, ok? He's sparado, he's sparado. non ho problemi di scappare